L'Associazione Teatro Musica Fondi, con il patrocinio del Comune di Fondi e della Banca Popolare di Fondi, in collaborazione con il periodico La Voce e Radio Antenna Musica, presenta Avugato Mio, studio legale, commedia in due atti scritta e diretta da Virginio Palazzo. Un appuntamento da non perdere, dal divertimento assicurato. La commedia sarà messa in scena a Fondi presso l'auditorium comunale dal 29 gennaio al 2 febbraio, Spettacolo alle ore 21, biglietti presso libreria Il Seme a Fondi, Avugato Mio, studio legale, commedia in due atti scritta e diretta da Virginio Palazzo.